Si inaugurerà venerdì alle 15 l'ottava edizione di Fashion in Flare, la mostra mercato e ingresso gratuito dedicata all'artigianato d'eccellenza con oltre 120 selezionati espositori provenienti da tutta Italia. Un nuovo appuntamento con la qualità ed il sapere tramandati dai migliori rappresentanti dell'artigianato Made in Italy che fino a domenica 13 ottobre saranno i protagonisti di una delle kermesse più attese dal pubblico lucchese all'interno di Villa Bottini. I visitatori avranno la possibilità di scoprire ed acquistare abiti ed accessori moda dove la dimensione artigianale del lavoro si affianca all'utilizzo di tessuti in materie prime di alta qualità. Ampio spazio anche a gioielli e bijoux oltre a complimenti d'arredo per la casa dove la tradizione lascia aperta la porta di sperimenti di recupero e rienterpretazioni del vintage. Ricchissima anche l'area food con gli artigiani del gusto da assaggiare anche in versione street food. È da otto anni che con grandissimo entusiasmo e passione tutta l'organizzazione svolge questo incessante lavoro di organizzazione portando appunto in questa magnifica cornice di Villa Bottini 120 artigiani quest'anno provenienti da tutta Italia con magnifici prodotti di altissimo livello manufatti di un'originalità unica. Una vetrina, quello che noi vogliamo realizzare appunto a Lucca è una vetrina che possa dare risalto quindi al Made in Italy, riportare l'obiettivo su quello che è il prodotto unico e l'artigianalità e l'originalità.